Abbiamo unito le nostre forze. Ognuno ha dato il proprio contributo. Per portare a termine questa missione. Ok, pronti per il pad thai. Noodles. Noodles. Ti devo massaggiare dentro. Questi cosa sono? C'è zucchero di palma, però fatto in questa formina. Ah, aiuto! Io adoro il pad thai. Ho avuto anche modo di mangiarlo proprio nel bel mezzo della foresta in Thailandia. Quindi proprio top. È stato veramente divertente. E mi è stato fantastico, ha tagliato il tofu. E ho fatto anche il test super importante del noodles cotto. Come si cucina il pad thai? Siamo partiti dalla salsa con pasta di tamarindo, salsa di pesce e zucchero di panno. Una molla in noodles, tostato gli arachidi. Tutto nel wok. Olio di semi, aglio, gamberi, l'uovo, il tofu. Andiamo a impiattare con germogli di soia, coriandolo, erba cipollina, lime e tantissimo peperoncino. L'ingrediente segreto. È stato sicuramente il nostro lavoro di squadra. L'unione fa la forza. Quellamente. L'ingrediente قال! Grazie.